Salve a tutti, come fare una pastina per un bambino, bambino di un anno o poco più, appena dopo lo svezzamento? Allora, porzione per un bambino soltanto, quindi pentolino, un po' d'acqua, ho appena acceso il fuoco e come basta io direi di scegliere qualcosa di qualità. In questo caso sto scegliendo fra nuvolette di grano duro cappelli, sempre meglio scegliere un grano di qualità. Evitiamo questi grani di importazione, abbiamo i nostri grani italiani, saporiti, costa qualche centesimo in più, ma ne vale la pena. Per i nostri bambini non badiamo a spessi. Oppure la proposta di farro, in questo caso sto facendo i tubetti di farro, i corallini di farro. Eccoli qua, peso 56 grammi, grossomodo fanno bene. Ecco, l'acqua già sta per bollire e via, metto dentro. Attenderemo dieci minuti per la cottura della pasta. Nel frattempo preparo il condimento. Bisogliamo di tanto in tanto per non far incollare i tubetti fra di loro. Quanto riguarda il condimento, sono delle lenticchie decorticate che avevo cucinato qualche settimana fa e qualcosa che è avanzata, o meglio ne ho cucinato un po' in più, l'ho messa in vasetto e l'ho lasciata nel congelatore. Messa oggi per fare una pasta un po' più veloce. Eccoci via, un po' di acqua di cottura, lasciandocene il giusto minimo indispensabile. Ok, si impiatta. In ultimo non può mancare un goccetto di olio extravergine di oliva. Questo qui è quello appena prodotto di quest'anno, bello fresco e nutriente, biologico. Un pochiello di parmigiano e via. La pasta per il nostro piccolo di un anno è pronto. La pasta per il nostro piccolo di un anno è pronto.